Sindaco, c'è un malcontento generale a Sciacca per quanto riguarda la vicenda della raccolta dei rifiuti. Adesso sappiamo che da oggi sarà possibile conferire la quota di eccedente dell'umido presso gli impianti della società d'asti di Catania. Lei se la sente di dire che da oggi il servizio si potrà in un certo modo anche normalizzare? No, non me la sento, con grande onestà non me la sento. Basti considerare quello che è successo lunedì. Lunedì il problema vero è stata la pioggia di domenica. La pioggia di domenica ha fatto riempire le vasche d'acqua e quindi se non arrivavano da fuori per togliere il percolato e a quel punto anche l'acqua piovana non si poteva conferire. Questo in una situazione provata da mesi di criticità ovviamente fa scattare la rabbia nel cittadino che non razionalizza ragionevolmente perché giustamente dice ora basta. Però dobbiamo considerare tutte queste variabili. La cosa che io ho fatto in realtà è un'altra anche. Non siamo fuori dall'emergenza. Io non mi considero fuori dall'emergenza perché io mi considererò fuori dall'emergenza quando noi avremo un servizio per almeno uno o due mesi regolarissimo. Allora a quel punto potrò dire forse va bene ma fin tanto che una previsione sulla previsione a questo punto io non posso sbilanciarmi più. Ho chiesto ieri con una nota formale all'assessore Piero Bon di convocare una riunione tra tutti l'assessorato, il dipartimento, l'SRR, Sogei Regis, il comune di Sciacca, l'ufficio ecologia per affrontare veramente questa questione. E se ci dobbiamo dire non ci sono impianti diciamocelo e diciamo ai cittadini impianti non ce n'è. Se ci dobbiamo dire per realizzare l'ampliamento ci vogliono dieci anni diciamocelo e diciamo ai cittadini per dieci anni siamo così. Collegato a questo problema sempre nel panorama dei rifiuti c'è anche quello del pagamento degli stipendi ai lavoratori che già stanno svolgendo il cosiddetto periodo di raffreddamento e quindi non si esclude uno sciopero. Ecco voi come comune come state seguendo la vicenda e quale informazione le hai acquisito? Allora anche lì dobbiamo fare chiarezza. Per quello che riguarda il comune, il comune ha già in pagamento all'ufficio regioneria le proprie aspettanze quindi su quello non abbiamo ritardi. Poi le ditte con il rischio di impresa che le caratterizza devono pagare gli stipendi. In questo momento c'è un ritardo. Anche questa non è una novità perché c'è un ritardo costante e continuo. Anche su questo più volte abbiamo detto adesso basta, nel senso stabiliamo un criterio. In realtà questi ritardi per un motivo, per un altro continuano ad aversi. Ho sentito ieri i sindacati. Faremo anche su questo una riunione, un tavolo per un po' confrontarci. Anche lì provando a capire però che la presenza del comune, il pagamento del comune non è un presupposto per il pagamento degli stipendi dei lavoratori. Per quanto riguarda la questione randaggismo che è pure al centro dell'attenzione ormai da molto tempo, direi anche da molti anni, a seguito dell'adozione di una delibera da parte dell'Aggiunta si pensava comunque ad un miglioramento radicale della questione. Qual è il problema che al momento impedisce dare una piena soluzione? Perché se il cittadino gira anche in centro storico vede numerosi cani in randaggio a tutte le ore, in particolare nelle ore della notte e ci sono stati anche dei rischi durante i mesi estivi e anche degli incidenti occorsi. Ma in realtà nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, si è riattivato con grande solerzia la sterilizzazione dei cani perché sono stati prelevati, tanti cani sono stati sterilizzati. La soluzione radicale quale sarebbe? Quella di non vedere più cani in giro. Ma per non vedere più cani in giro le soluzioni quali sono? O vengono adottati, cosa che noi auspichiamo in tutti i modi, o altrimenti cosa si dovrebbe fare? Tenerli chiusi nei canili mettendo in seria pregiudizio la salute dell'animale perché è come tenerlo in prigione. Ma questo non è previsto da nessuno neanche dalla normativa vigente. Quindi per poter vedere le strade centro storico altrove libere da randaggi bisogna incentivare le adozioni, altrimenti bisognerà attendere che a seguito delle sterilizzazioni di massa non ci siano ulteriori riproduzioni. Ma non è un effetto che si può vedere dall'oggi al domani, mi pare una cosa evidente. Sindaco, le questioni politiche. Lei oggi ha nominato un altro assessore, Nino Venezia. Ecco, come è maturata questa decisione? Se ne parlava per la verità già da tempo. E se lei ha intenzione di avvalersi della possibilità che ha di nominare un ulteriore componente della giunta? Sì, sulla nomina di Nino Venezia se ne parlava da tempo perché è un impegno elettorale preso con la componente che fa capo al consigliere Alberto Sabella. Quindi comunque non c'è nessuna novità sotto questo punto. La scelta è ricaduta su Nino Venezia, persona stimata, seria, che ha grande anche voglia di mettersi in gioco a servizio della città. Per quanto riguarda l'ulteriore nomina, tendenzialmente sì, ma per un motivo semplicissimo. Considerate le emergenze, ne abbiamo soltanto accennate alcune, ma sono tante le emergenze di cui purtroppo si discute tutti i giorni, avere più persone che possono prodigarsi per raggiungere degli obiettivi e venire incontro a quello che la città chiede, che ben venga. Quindi se c'è questa opportunità, perché no? La prossima sarà una nomina politica o tecnica? No, su questo ancora io non posso rispondere, anche perché altrimenti l'avrei già nominato se avessi già individuato chi potrà far parte di questa giunta. Ma ripeto, non è lontano dai miei pensieri perché credo che possa essere di aiuto, senz'altro di aiuto. Grazie a tutti.